Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un caro saluto, scusate se questo video editoriale arriva un po' tardi, ma io ho un lavoro e ho dovuto fare le trasmissioni tv fino a tarda sera, con tutto il resto poi, e quindi mi son visto anche Genoa-Napoli 2-2, non è male che il Napoli sia già rimasto un pochino indietro, ragazzi era il derby più ininfluente del 2023, perché siamo solo alla quarta giornata, l'avrei detto anche se avesse vinto il Milan, anche perché ragazzi tutta la settimana che mi minacciano, guardate che non finisce come gli altri quattro, guarda che adesso Pioli ha delle nuove idee, la svolta, Pulisi, Capitano America ha detto siamo più forti noi per lo scudetto, Lotus C che ieri ho letto, arrivo al derby e spacco, Calabria calmi ragazzi, Capitano del Milan, Capitano Calabria, ma avevano talmente convinto che son venuto per commentarlo in tv il mio 91esimo derby, 38esima vittoria, 24 pareggi, 29 sconfitte per chi è interessato dall'88-89, son venuto con l'elmetto, cioè veramente ero andato dagli amici di Regen, Regen Store che mi forniscono i ricondizionati materiali e gli ho detto non c'avete qualcosa per proteggermi? dai uso il mio sconto, lo sconto GLR, lo sconto GLR TV, mi hanno detto ma noi vendiamo tecnologia, non è che possiamo darti… allora ho detto vabbè c'ho il mio elmetto da militare ancora, quello della press TV e vabbè vado con l'elmetto perché questi mi mettono in trincea. ragazzi invece è finita, è finita 5 a 1 come… io sono vecchio, avevo 8 anni allora ma me lo ricordo, 24 marzo 74, 5 a 1 per l'Inter in casa del Milan, finita 5 a 1 per noi, è il quinto derby del 2023, la manita di derby, vinti tutti e 5, io credo che in nessuna città del mondo dove esistono due squadre cittadine ce ne sia stata una che ha vinto 5 derby su 5 in un anno solare il 2023, quindi cari cugini chiacchieroni, l'appuntamento ce lo diamo al 2024, è stato uno show ragazzi, capolavoro di Inzaghi, adesso nessuno dei miei intertristi, meno male almeno questi, parla più di Inzaghi, per me, per come l'ho vista io, mi è sembrata peggio questa sconfitta delle altre quattro, per come l'ho vista io, però ragazzi poi ognuno, sapete che Pioli l'altra volta aveva resistito 7 minuti, stavolta ha resistito 293 secondi, Ariad 10 minuti, in Champions 7 minuti, stavolta 5 minuti, 293 secondi per l'esattezza, così mi hanno scritto, e però era il nuovo Milan, nuovo, tutto il nuovo, 107 milioni di mercato, nuovo, vedrete, nuovo, che poi di nuovi ce ne erano in campo 3, che io non li ho mai visti, l'Inter ne erano in campo 2, cioè i 3 erano, il Capitano in America, Pulisic è il mio idolo, ragazzi, questo mi rovina anche, io non ho mai visto Capitano America perdere in vita mia, adesso deve venire questo qua, per rovinarmi un mito, Lotus Cheek sì, ha fatto qualcosa, ha provato a randellare, ma ho visto poca roba, e poi sto Rinders che gioca col 14 come Cruyff, ho detto, madonna questo qui, scegli il 14 come Cruyff, mi dicono tutti un gran bene, ho visto un tiro in tribuna, vabbè, a me è sembrata peggiore la sconfitta, ma loro, che sono chiacchieroni, no ma fino al 3-1 siamo stati in partita, sì cazzo, io se già vado sotto 2-1, mi incazzo, loro però fino al 3-1 siamo stati in partita, poi hanno un po' sbracato, vabbè, ragazzi, fatemi mettere gli occhiali perché un po' di cronaca ve la devo fare, allora, leggiamo, scusate ho sbagliato gli occhiali, devo aver sbagliato gli occhiali, scusate, c'è, lo so, la volete, me l'avete chiesta, va bene, fatto la trombata nel senso di suonare la tromba perché è la mia età ormai, vabbè, allora, ragazzi, tabellino, 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 no ma prima del tabellino, però vorrei darvi le note caratteristiche, c'è Mkhitaryan, io quando dico siamo tutti armeni, l'avevo già detto per onorare l'armeno che va come un treno in Champions, mai mi sarei aspettato che facesse due gol e un assist, cioè, lui ha praticamente fatto un terzo dei dodici gol a uno con cui abbiamo vinto i cinque derby, c'è Mkhitaryan due gol e un assist, Turam e Fratesi, vabbè, insomma, Turam e Fratesi hanno fatto altri gol, però cosa vi posso dire io, cioè, il Milan mica li ha mai cercati, Turam e Fratesi, non sai che non li ha mai voluti, mai voluti, per carità di Dio, meglio così, eh, meglio così tengano i loro che io mi tengo i miei, vabbè, sul golasso di Turam, non so se avete visto, poi Cialanogolo gli fa sempre gol, devo dire il suo rigore, questo, però, Cialanogolo, più lo insultano, più questo gli fa gol, tra l'altro, Lautaro voleva, uè, non ha segnato manco Lautaro, ancora non abbiamo visto Pavar e Klasen, vabbè, comunque ragazzi, non esaltiamoci, però, c'era Leao, no, stavolta, si può dire Leao c'era, ma sì, ha fatto gol, quindi c'era, l'unico gol, appunto, del 2023 all'Inter l'ha fatto Leao, quindi Leao c'era. Beh, per il resto, però, segnato ragazzi, dai, migliorano, anche se a me pare che la forchetta di quattro gol, cinque a uno, sia più grave degli uno a zero, dei due a zero, dei tre a zero precedenti. Non so, ma loro, su questo inter-show capolavoro di Inzaghi, dicono, no, se non abbiamo approcciato bene, però fino al tre a uno eravamo in partita, vero? Enrico, dov'è l'Enrico Sacchi? Porca non voglio che nessuno mandi a cagherla a Rigo, magari anche facendo segno della manita, eh? Lasciate stare la Rigo, che il Milan c'ha questo calcio straordinario, europeo, c'ha il 99% di possesso palla, tutti all'indietro, tutti a Magnanto, e cazzo di gioco, vabbè. Comunque, ragazzi, Inter 12, Juve 10, Milan 9, questo recita la classifica, poi mi sono fermato anche per vedere Genova-Napoli e, cavolo, Napoli era sotto, però è andato a recuperare la partita. Allora, ragazzi, la fredda cronaca, adesso prendo gli occhiali giusti. Già il quinto minuto, come vi dico, come vi ho detto, dopo 293 secondi, Turam avvia per Di Marco a un certo punto, erano in quattro attorno a Mkhitaryan che ha fatto un gol alla Paolo Russi, almeno uno a zero. Dopo sei minuti vedo che Mkhitaryan fa ancora un inserimento, colpo di testa fuori di un soffio, li ha rischiato ancora, il rosso-nero, un po' chiacchiaroni. Però, a un certo punto, ragazzi, al 31esimo si vede, si vede Teo Hernández, grande discesa, peccato che ha tirato un sospiro e Sommer non ha avuto difficoltà a parare. Al 38esimo, Dunfris, ormai fa assist, questo fa assist come se piovesse. Io non so cosa gli ha preso. Palla per Turam, non l'ha servito bene, però a un certo punto Turam rientra, fa un gol. Vi ricordate qualche Inter triste? Io lo seguo dei primi e mi diceva, ma Turam, scarso anche a Di Soloni, Turam, scarso feeling col gol. Vabbè, ne ho già fatti due, ma questo è stato il gol più bello della partita, se mi permettete. Grandissimo gol di Turam. Poi l'analisi la farò nel prossimo video editoriale. Attenzione, secondo tempo un po' non siamo stati perfetti, un po' abbiamo dormito e al 57esimo Leao fa due a uno e loro sperano, loro la riaprono, loro dicono, ma dai, vedi che non finisce, mettiti l'elmetto, Gianluca, mettiti l'elmetto, altro che la trombetta, dove vuoi andare con la trombetta? Ragazzi, ci hanno svegliato e infatti Lautaro per Mkhitaryan è arrivato al 3 a 1 al minuto 69. 10 minuti, ecco, loro sono stati in partita, secondo loro, fino al settantesimo, così dice Pio, no, ma fino al settantesimo, 3 a 1 sta in partita. Vabbè, dopodiché è un po' sbragato, cioè fallo di Teo Hernandez su rimessa laterale su Lautaro, 4 a 1, Lautaro dice, no, dai, fatemi segnare, no, e qui la grande personalità di Inzaghi che ha scelto il rigorista, il rigorista è Cialanoglu, ha tirato Cialanoglu, 4 a 1. E però costo Mkhitaryan, porca miseria, costi Cialanoglu, sto Barella, perché anche Barella solito, quando gioca Frattesi, quando cavolo gioca Frattesi, Frattesi non ha spazio, polemiche. Oh ragazzi, Mkhitaryan è entrato Frattesi e naturalmente su Assis di Mkhitaryan ha fatto il 5 a 1. Ha segnato pure Frattesi. Frattesi adesso se la prendono perché ha fatto così come Totti, vabbè, insomma, io dico sempre che gli ha detti ai lavori, non dovrebbero mai fare certe cose, però se vogliono parlare adesso per tre giorni di questa cosa qui, invece c'è che guardare in casa loro. Poi mi hanno detto, beh, ma il Milan ha delle riserve come l'Inter ad altezza, perché poi è entrato Ciuqueze per Pulisic, Jovic che a Firenze ho visto stappare bottiglie di champagne quando è partita per Giroud, Giroud non si gira più, tutto il 2023 che non si gira più. Poi Hocafor per Reinders, Cruif del Milan, numero 14, mai visto. E poi il bello di nonna grande, Florenzi mi piace, per Calabria che anche lui ha vissuto una serata brutta. Poi hanno messo Musa, che è uno che l'Inter aveva già mollato credo un anno e mezzo fa per Lotus-Cic. Noi abbiamo messo Carlos per Di Marco, Carlos Augusto, Frattesi per Barella, gol. Arnautovic per Turam, che Turam aveva fatto gol. Poi abbiamo messo De Vrij per Cerbi, qualche disattenzione l'abbiamo avuta, ma per carità di Dio. Addirittura è entrato Aslani, cioè ragazzi all'ottantunesimo Aslani al posto di Cialanoglu. Cioè io dico se entra anche Aslani vuol dire che la partita è proprio serena in cassaforte. Volete che vi dica la verità? Non mi sono spaventato neanche un secondo. È tutto il 2023 che vedo derby e non me la faccio addosso mai. Questa è la mia analisi. Però di là chiacchierano. Ragazzi lasciamoli chiacchierare. Cosa dobbiamo dire? È presto per tutti. È per tutto. Naturalmente è per tutti. Torno a dire che era il derby meno importante dei cinque, ma se tu il derby meno importante lo vinci con la forbice più ampia 5 a 1, ragazzi vuol dire eh? Vuol dire eh? mi spiace solo che la trombetta, perché io la uso soprattutto col Milan, qua fino a trombetta non la posso usare fino al 2024. Dovevo fare un'eccezione. No ogni tanto anche con la Juve. Però soprattutto la trombetta è dedicata al Milan. Amici del canale Gianluca Rossi TV, che cosa vi posso dire? Non infierite. Tanto loro hanno capito quali sono i problemi. L'avevano già capito alla terza volta, poi alla quarta e alla quinta l'avranno capito. Infatti hanno fatto un gol. Ragazzi hanno fatto un gol eh? Presi 12, ma hanno fatto un gol. Presi 12. Ragazzi viva l'Inter. Viva l'Inter. Ormai sta diventando una partita, non voglio dire Juve-Torino, però sto 2023, che statistica ragazzi, che statistica. Ormai veramente siamo bravi. Possiamo dire che siamo bravi, cari intertristi? Mi riferisco soprattutto a voi. Possiamo dire che siamo bravini? Naturalmente il primo, ma non perché io sia scaramatico. Naturalmente adesso il primo, come dice l'Inter, veleggia, campione d'Italia. Ne parliamo magari tra qualche mese. Ciao a tutti ragazzi. Viva l'Inter, trombetta. Ciao ragazze, viva l'Inter. Viva l'Inter. Cinque derby su cinque. Mai capitato secondo me in nessuna città del mondo in un anno solare. Viva l'Inter. Ciao. Chiacchieroni eh, gli altri chiacchierano. C'è di chiacchierano. Viva l'Inter. Viva l'Inter. Viva l'Inter.